VAI IL DRAGO! IL DRAGO! Attenzione, i seguenti contenuti contengono immagini non adatti a un pubblico sensibile. Non rifare le azioni di questo video e aggiungo che il linguaggio è del tutto satirico e non intende offendere in nessun modo le minoranze etniche o quant'altro. Come? Cosa ti pensi degli uomini che si mettono lo svantura a tutti? Oddio! 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 Che schifo! Che schifo! Ma come fa uno? Cioè, ma dai, ma secondo me preferisco sinceramente una persona, preferisco un occhio piuttosto che un uomo che si mette lo smalto. Io preferisco un occhio, preferisco un gay piuttosto che uno che si mette lo smalto sulle unghie. Ma scherziamo, il peggio del peggio, perché almeno il gay è già spacciato e lui invece è un maschio che si mette lo smalto. Ha 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 ha, smoccare proprio. E' una persona che non becca il cazzo. Da pari mi credo che mi diventerebbe un bel cazzo. Non lo so. Drago Frebooter, vola! Drago Frebooter, vola! Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo! Ma no! Diventerete famose! Ciao ragazzi! Ciao! Ci vediamo quando diventa terizze. E famose! Vola! 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 Grazie a tutti.